... Rannicchiato in un lago di sangue sul cilio della ponte Bana a Nervese, così è stato trovato senza vita un diciottenne all'alba di oggi a dare l'allarme a un'infermiere che passava in auto le indagini dei carabinieri. Tutte le piste aperte dal pilato della strada a quella ancora più cruente di una lite in auto finita con il ragazzo scaraventato in strada. In corsa l'area di servizio vicina mette a disposizione le telecamere di sorveglianza. Orora San Candido in alto Adige, 50enne ex guardia giurata, spara e uccide l'anziano padre malato alla vicina di casa, poi si barrica in casa fino all'eruzione dei corti speciali. L'uomo tenta di togliersi la vita, è in fin di vita. Ho sentito la raffica di colpi, poi le forze dell'ordine ci hanno detto restati in casa e lontani dalle finestre il racconto di un residente a poca distanza dal condominio. Il padre lo trova senza vita in camera da letto, sciocca d'asolo per la morte di Edoardo Zamperoni, avrebbe compiuto 22 anni a settembre, nelle prossime ore potrebbe essere disposta all'autopsia. Non ce l'ha fatta Simone Moro, il 27enne di Fara di Soligo, che ieri a Tarzo di ritorno da un'escursione in montagna era stato colto da un malore al volante, il giovane è morto nella notte in ospedale. In poche settimane hanno messo a segno almeno una decina di furti in locali, negozi di Treviso razziando i registratori di cassa, la polizia resta i due ladri seriali. Maiolo delle scimmie, scattati i protocolli di sorveglianza anche nella marca trevigiana, evitare i comportamenti sessuali a rischio, dice il direttore dell'US2 Benazzi. Di scarica, c'è l'aperto sul chiave a Pederobbe, immediato l'intervento di volontari e operatori, dal comune parte un appello ai turisti, siete i benvenuti a patto che rispettiate il nostro territorio. Dalli spettatori di Antena Trebola, sarebbe ritrovati il telegiornale di Treviso, un'ampia pagina di cronaca dunque che si apre con il giallo in Ponte Bano, lo abbiamo raccontato questa mattina in diretta, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un diciottene. Ne si ipotizza un pirata della strada, ma non si esclude nessuna pista, nemmeno quello di un'aggressione sfociata in un omicidio. Giornata serrata di indagini per i carabinieri, domani intanto verrà conferita l'autopsia, il ragazzo aveva una profonda ferita alla testa. Una fine tragica che lascia aperta un'ipotesi, anche la più cruenta, quella di un diciottenne del Burkina Faso, ospite di parenti a Treviso, trovato morto poco prima dell'alba sul ciglio della strada lungo la Ponte Bana a Nervesa della battaglia, rannicchiato con una vistosa ferita alla testa, sangue ovunque. Per gli operatori del soccorso un'alba di mobilitazione, per i carabinieri una domenica segnata da rilievi e indagini continue per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Sono le 5.30 quando al 118 arrivano due segnalazioni da altrettanti automobilisti, una in particolare è quella di una donna diretta verso Ponte dell'Apriula, di ritorno dall'aeroporto Canova. La sua Clio resta parcheggiata per diverse ore nel vicino Tamoil, ha una gomma a terra sul lato destro, probabilmente ha urtato il corpo del giovane che si trovava già a terra. Di certo, quando i sanitari arrivano sul posto per il diciottenne, Ceic Tidiane Bance e il suo nome, non c'era più nulla da fare. Capita la gravità della situazione, il tratto di Ponte Bana viene chiuso, il traffico deviato, arriva anche il nucleo della scientifica, la scena viene cristallizzata per alcune ore fino alle 10. Il corpo resta nella posizione del ritrovamento per consentire misurazioni e recupero di possibili elementi. La prima domanda a cui rispondere è cosa ci facesse alle 5.30 del mattino non diciottenne, non residente del posto, in questo angolo buio di Ponte Bana, lato ferrovia. Il tratto è fuori dai centri abitati, ci sono solo aziende chiuse. Prima ipotesi, il ragazzo sta camminando e viene investito da un pirata della strada, forse ha trascorso la serata in zona, insomma un omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. Seconda ipotesi, qualcuno scarica il diciottenne da un'auto in corsa, magari già ferito, un'aggressione, un gioco finito male, un regolamento di conti, in poche parole un omicidio. A metà pomeriggio si procede, ma senza un'ipotesi di reato specifica. Il corpo del teenager presenta fratture e appunto una ferita profonda alla testa, per cui nelle prossime ore sarà conferita l'autopsia. Bisogna anche capire se la ragazzo fosse o meno alterato da sostanze. Gli interrogativi sono aperti. Tidiane proviene da una famiglia burkinabè, che fino a qualche anno fa risedeva a Ponzano, ma i familiari più stretti sono tutti in Francia. Nella marca ci sarebbe un fratello, per ore sull'asfalto non è stato raggiunto da nessuno. Alle spalle quindi un contesto familiare problematico, ad assistere all'operazione anche la protezione civile di Montebelluna. Per recuperare l'assalma, chiamati l'autorità giudiziaria dei carabinieri. Siamo qua, adesso gli operatori della strada, qua dell'Ana, stanno davanti l'occhio. I carabinieri coordinati dalla procura hanno lavorato per tutto il giorno nel più stretto riservo. Si guarda anche alle telecamere della Pontebana. Forse la risoluzione del giallo potrebbe arrivare da uno dei tanti occhi elettronici puntati su una delle arterie più trafficate della marca. Allora al setaccio le telecamere pubbliche e private sono molte, lo diceva Christian Arvoit nel servizio d'apertura a quelle lungo la Pontebana. Mettiamo tutto a disposizione, dice il titolare della vicinare di servizio Tamoil. Ancora Christian Arvoit. Noi ne abbiamo una telecamera, delle quattro che abbiamo, e una dovrebbe aiutarci a risalire. Quindi è puntata verso la strada? Sempre nell'impianto, però lo zoom arriva fino alla statale. Certo. Prendere la statale, insomma, quei cento metri, cinquanta, cento metri, insomma. Mette a disposizione le sue telecamere Fabio Daniel, titolare con il fratello Michele della pompa di benzina sulla Pontebana, a poche decine di metri dal luogo del ritrovamento del corpo del diciottenne sul ciglio della strada. Il tratto in comune di Nervesa della battaglia è quello compreso tra Spresiano e Ponte della Priula, un rettilineo dove spesso si corre e teatro di gravi incidenti. Stavolta però la situazione sembra molto più complessa. Daniel conosce bene la zona, inevitabile che gli interrogativi siano tanti. E a quell'ora là non lo so cosa... Sì, è un punto buio questo qua, tutto là. Scossa la stessa sindaca di Nervesa della battaglia, Mara Fontevasso, che ha seguito la vicenda anche attraverso il consigliere Claudio Meneghetti, storico funzionario dei vigili del fuoco. Ci vede coinvolti nel dolore che possiamo avere nelle vicinanze di questa famiglia e sicuramente c'è un'attività di indagine in questo momento che viene svolta, viene svolta da parte di chi naturalmente è preposto. A sua volta il comune di Nervesa sta mettendo a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza pubblica. Se si tratta di un pirata della strada o peggio di un aggressore poi scappato con l'auto, qualche elemento utile potrebbe nascondersi tra i frame. Sicuramente hanno già preso visione di quelli che sono e che potrebbero essere gli elementi utili per indirizzare l'indagine in un modo o nell'altro. Speriamo che possa essere al quanto presto, più presto possibile, trovata l'eventuale responsabilità o causa dell'incidente. Si è fatta chiarezza? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Ancora Cristian Alboit con un aggiornamento di cronaca. Un grave incidente poco fa a Monfumo. I sanitari sono sul posto in questo momento per soccorrere un motociclista che sarebbe uscito di strada in maniera autonoma. Le sue condizioni sono molto serie anche se a quanto pare non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. È successo in via Bis a Monfumo poco fa questo incidente stradale coinvolto un centavro. Lasciamo per un attimo la marca trevigiana, lasciamo anche il Veneto. Andiamo in Alto Adige per raccontarvi del fatto di sangue che ha sconvolto davvero tutti. Una notizia che è rimbalzata anche a livello nazionale. Anche questa ve l'abbiamo raccontata in diretta questa mattina nella nostra prima edizione. L'orrore di San Candido, una cinquantena ex guardia giurata che spara e uccide l'anziano padre malato. E poi la vicina di casa che era a corsa sulle scale per sapere cosa stesse accadendo. Poi si è barricato in casa per ore fino all'eruzione dei corpi speciali dei carabinieri. L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Ora è pianto in alto in ospedale in gravissime condizioni. Sono stati, inutile dirlo, ore di terrore per i residenti della cittadina nota, cittadina turistica. A partire, sentiamo proprio dalla testimonianza di un residente che si trovava a pochi decine di metri da quanto stava accadendo. Ho sentito nitidi gli spari di questa, mi sembrava un'arma automatica, li ho sentiti molto forti. Più raffiche sono state, sono state alcune raffiche sono state. Ho sentito un tot di colpi, poi un'interruzione in tempo, poi una nuova raffica, mi sembra tre o quattro raffiche addirittura. Quelli che Gastone Berdozzo, 56 anni di Gais, sente svegliandosi di soprassalto non sono fuochi d'artificio come nel primo dormiveglia potrebbe sembrare. Sono l'inizio dell'orrore in cui, nella notte, precipita una delle località turistiche più famose del nord-est, San Candido, in Alto Adige. Berdozzo si trova nella casa dei genitori a 70 metri circa dal condominio di via San Corbiniano, dove il cinquantenne Hevald Kubacher, un passato di lavoro in un'azienda di sicurezza privata, ha appena ucciso a colpi di arma da fuoco il padre Herman, novantenne invalido e vedovo con il quale Kubacher vive, e la vicina di casa, Waltraud Yud, coetanea del killer, impiegata. Una notte di terrore per il paese di 3.000 abitanti e affollato di turisti, iniziata quando le urla di una lite e un forte odore di gas vengono avvertiti dai residenti dello stabile, tanto da allertare i vigili del fuoco. Ma quando i pompieri arrivano vengono accolti dagli spari del cinquantenne che dal balcone, con il fucile preso al padre, ex guardia caccia, colpisce i loro mezzi. In quel momento si capisce che la situazione è più grave del previsto, l'anziano padre è già morto e Kubacher non esita a uccidere sulle scale la vicina uscita di casa per capire cosa stesse succedendo. Carabinieri, polizia, la protezione civile, le ambulanze, le forze dell'ordine di soccorso circondano l'area e danno disposizioni chiare ai residenti, restati in casa e lontani dalle finestre. Ci segnalavano appunto di non allontanarci dalla stanza e di rimanere in alcune stanze non a mira praticamente delle finestre nostre. Quindi uscivo un attimo, guardavo dalla finestra, la situazione era abbastanza seria. Mi sono attenuto a ciò che mi è stato detto e ho seguito un attimo il mio istinto e abbiamo cercato già a priori di evitare le finestre, visto gli spari vicini. L'allarme è tale che per alcune ore anche la stazione ferroviaria viene isolata. Gli ultimi colpi d'arma da fuoco alle 4. Ore terribili nelle quali, mentre nell'abitazione dove si trova il killer regna il silenzio, le forze dell'ordine progettano l'irruzione nel condominio che diventa reale con l'intervento dei corpi speciali del GIS, dei carabinieri, in mattinata. Mentre stanno entrando Kubaker spara altri colpi all'esterno, colpendo ancora i mezzi, ma non ferma i militari. Il cinquantenne fuggi in un'altra stanza e rivolge su se stesso l'arma con la quale ha spezzato due vite. Si ferisce gravemente alla gola, ma non muore. In fin di vita viene portato in ospedale. Cosa può aver portato l'uomo al duplice omicidio, ora è in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. So che era una persona che acudiva il padre, però di più non saprei dirle sinceramente, perché pur essendo vicini di casa, ma ripeto io sono nella casa dei miei genitori, pur essendo vicini non c'era un contatto. So che era una persona che non frequentava il paese. Questo è quello che posso dirvi. E mentre nella cittadina viene decretato il fuori pericolo, resta lo sconcerto per due vittime e quasi 12 ore passate con il fiato sospeso che ai più hanno fatto pensare a una sola cosa. Alla follia umana, ho pensato. Alla follia umana. Che può manifestarsi così improvvisamente anche in un paese dove ci va letto tranquilo. Sì, che può manifestarsi così anche proprio a un vicino di casa, senza un preavviso, senza un segnale nitido. Questo è il mio pensiero. Adesso torniamo nella marca. Due giovanissime vite spezzate. La prima, quella di Edoardo Zamperoni, avrebbe compiuto 22 anni a settembre. La comunità di Asolo è sotto shock per la sua morte improvvisa. È stato trovato senza vita ieri mattina a letto nella sua abitazione. Il padre, non vedendolo alzarsi, era andato in camera per vedere se il figlio avesse qualche problema e lo ha trovato senza vita. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre un esame approfondito del medico legale per chiarire le cause del decesso. Sul posto anche i carabinieri. Zamperoni sarà diplomato al liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna ed è iscritto al corso di laurea in ingegneria gestionale all'Università degli Studi di Padova. Era impegnato in diverse attività parrocchiali, partecipava a vari tornei sportivi e si divertiva giocando a calcetto con i suoi amici. La sua famiglia, molto conosciuta in paese, è attiva da sempre nella comunità asolana con l'Avis, la scuola materna e il comitato genitori. Il sindaco Franco Dallarosa e l'amministrazione di Asolo hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia Zamperoni che in questo momento di grande dolore è come l'unico conforto all'abbraccio ideale di tutta la comunità e degli amici di Edoardo. Questa è la tragica fine di Edoardo Zamperoni e potrebbe esserci un'esame approfondito, un'autopsia per stabilire le cause del decesso di questa morte davvero improvvisa a soli 21 anni. E poi un'altra comunità in lutto, quella di Farra di Soligo, di Col San Martino, di Farra di Soligo, perché non ce l'ha fatta il 27enne Simone Moro che ieri sera a Tarzo di ritorno da un'escursione in montagna era stato colto da un malore al volante della sua auto. Il giovane è morto nella notte in ospedale. A Treviso. Poche ore di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere ad appena 27 anni. È un affare di Soligo incredula quella che si è svegliata con la notizia della morte di Simone Moro, titolare di una nota in presa di giardinaggio, la Moro Giardini, giovane molto conosciuto e stimato in paese. Le speranze che ce la potesse fare sono svanite in nottata all'ospedale Caffoncello di Treviso dove era ricoverato per l'arresto cardiaco che lo aveva colpito qualche ora prima a Tarzo mentre era al volante della sua auto. Era stata una giornata di spensieratezza, un'escursione in quella montagna che a tanto amava assieme all'altra sua grande passione, la bicicletta. Un'escursione in compagnia di un amico e nulla che facesse presagire il peggio. Simone apparentemente stava bene, poi di rientro a casa in serata improvvisamente il malore, quella sensazione di dolore lungo la strada delle mire a Corbanese. Pochi istanti nei quali Simone ha capito che qualcosa non andava e nonostante tutto ha avuto la prontezza di accostare la vettura ed evitare uno schianto mentre l'amico al suo fianco, testimone di quanto stava accadendo, ha subito allertato i soccorsi. Di lì a poco dalla piazzola dell'ospedale di Treviso è decollato l'elicottero del SUEM che in pochi minuti è atterrato in un'area verde vicino alla strada delle mire nei pressi del cimitero del paese. Le condizioni del ragazzo erano apparse fin da subito molto gravi agli occhi degli operatori del 118 che gli avevano prestato le prime cure. Una volta stabilizzato è stato trasportato in elicottero al cafoncello ed è iniziata l'attesa purtroppo breve e conclusa con il peggiore degli esiti. È una tragedia davvero terribile quelle notizie che non vorremmo mai ricevere purtroppo. Simone era un ragazzo che era conosciuto da tutto il paese lo conoscevo personalmente anch'io come tutta la famiglia un bravo ragazzo sempre con il sorriso un grande lavoratore, lui era giardiniere e proprio tre anni fa avevamo ero passato a inaugurare la sua attività per la quale era molto contento lui era anche un grandissimo sportivo perché correva in bicicletta un amante appunto anche della montagna davvero una tragedia incredibile per tutta la comunità di Farra di Soligo di Colsa Martino dove risiedeva con la famiglia e quindi come amministrazione ci stringiamo a papà Franco alla mamma Mary al fratello e a tutti i familiari che in questo momento lo piangono per cui veramente una grande tragedia una grande tragedia per tutta la comunità davvero Ancora la cronaca erano diventati l'incubo di locali ai negozi di Treviso siamo tornati nel capoluogo della marca più di una decina di colpi messi a segno modus operandi sempre identico di notte scassiravano gli accessi dei locali in poco tempo svuotavano i registratori di cassa l'ultimo ride all'alba di oggi 300 euro sportati in un negozio ma stamattina la squadra mobile di Treviso è riuscita a individuare i blocari responsabili due cittadini italiani rispettivamente di 30 e di 44 anni sono in corso in questa era l'attività per ricostruire tutti gli episodi di furto come dicevamo più di una decina commessi a Treviso con un bottino di diverse migliaia di euro fondamentale è stato il costante presidio sul territorio della polizia anche in questo periodo di ferragosto il maltempo il maltempo era annunciato con diverse problematiche si è fatto sentire ma i disagi sono stati minori del previsto ma ci sono stati anche nella marca raffiche di vento temporali e in qualche caso grandine pomeriggio di maltempo in buona parte della marca trevigiana dove c'è stato anche un calo termico dopo la canicola delle ultime settimane le aree più interessate quelle dell'alta marca tra quartiere del Piave e Asolano a Casera d'Asolo in particolare il vento ha abbattuto due alberi ramaglie poi in strada immediato all'intervento degli operatori le immagini che vedete sono della pagina social Meteo Bassano e Pede Montana del Grappa ecco vedete gli alberi caduti registrata anche grandine con il sindaco Dallarosa che parla di possibili danni alle culture lo capiremo meglio nei prossimi giorni ha detto il primo cittadino la pioggia ha contraddistinto anche il ritorno dalla spiaggia di molti vacanzieri pioggia ma per ora nessun disagio particolare sulla Trevisomare ecco le immagini dove nel pomeriggio il traffico è stato abbastanza scorrevole e distribuito nel corso dell'intera giornata proprio il maltempo annunciato ha convinto evidentemente a distribuire le partenze nell'arco della giornata più consistenti i flussi di traffico invece sull'Alemagna e in A27 con i soliti coni di bottiglia tra Cadore e Longaronese il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione aveva nella giornata di ieri dichiarato lo stato di attenzione di allerta gialla per criticità idrogeologica per forti temporali su tutta la regione ed è un'allerta che comunque resta fino alle 18 di domani perché sta tornando il maltempo in queste ore soprattutto appunto nell'alta marca e vedremo cosa accadrà nelle prossime ore un'altra allerta è un'allerta sanitaria resta per ora sotto controllo ma da non sottovalutare quella del vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria mondiale dichiarata dall'OMS in questi giorni sono scattati i protocolli di sorveglianza anche nella marca trevigiana è chiaro l'allarme che noi lanciamo a tutti e attenzione siccome si trasmette per via sessuale o pazienti che hanno contatto con liquidi infetti o con lesioni infette di stare molto attenti di evitare promiscuità sessuali evitare comportamenti sessuali a rischio può essere al momento l'argine più utile ed efficace contro la nuova variante di vaiolo delle scimmie la cosiddetta clade 1 considerata più pericolosa rispetto a quella del 2022 quando diversi casi si registrarono anche nella marca trevigiana questa è molto più aggressiva molto più invasiva e anche direi un po' più pericolosa perché chiaramente non passa facilmente a differenza tra l'altra che se ovviamente nel giro di 20 giorni di tre settimane poi sarà la risoluzione quando cadono le escare dalle bolle questa potrebbe continuare molto di più ed essere anche molto più infettiva in Europa al momento l'unico caso si è verificato in Svezia ma l'allarme lanciato dall'OMS su scala globale sta interessando tutte le autorità sanitarie situazione sotto controllo dice il ministero della salute che sottolinea come eventualmente vi siano scorte sufficienti di vaccino in attesa di linee specifiche a nord-est si collabora la sorveglianza come diceva anche il nostro assessore Lanzarin è forte e molto importante e poi c'è una stretta connessione tra noi il frio di Venezia e Giulia in modo tale da creare una rete proprio di alert per evitare che ci possa essere dei casi se questi ci sono evidentemente vengono immediatamente isolati posti in quarantena usiamo questo termine per una emergenza allo stadio embrionale ce n'è una diventata ormai cronica a tratti normalizzata il covid che proprio in questi giorni sta conoscendo una nuova fase non abbiamo persone in terapia intensiva però ricoveri purtroppo legati a casi soprattutto anziani che hanno contratto il covid per loro la terapia chiaramente sono antipiretici antinfiammatori e gestione ovviamente della patologia che comunque si risolve nel giro di una settimana ancora la cronaca c'è probabilmente un cortocircuito all'origine dell'incendio che si è sviluppato questa mattina a Spresiano in un condominio di via Dante Lighieri dove sono intervenuti i vigili del fuoco come vediamo in queste immagini da una prima ricostruzione sembra che il motore di un condizionatore abbia sorriscaldato il plexiglass del lucernario che così ha preso fuoco immediato l'allarme l'arrivo tempestivo dei pompieri che ha evitato il propagarsi delle fiamme allo stabile e conseguenze ben peggiori in formato dell'accaduto lo stesso sindaco di Spresiano Marco Della Pietra adesso pochissimi istanti di pubblicità poi di nuovo in diretta Rieccoci in studio in diretta per parlare ancora una volta dei discarichi a cielo aperto sul Piave questa volta a Pederob mi è mediato l'intervento di volontari e operatori caccia e meri educati mentre dal comune parte un appello ai turisti siete benvenuti a patto che rispettiate il nostro territorio Ferragosto e Piave è una tradizione per i tanti che abitano questo territorio e per i moltissimi turisti che ogni anno si recano sulle rive del nostro fiume per passare una giornata spensierata ma ciò che è accaduto è intollerabile trovare veri e propri cumuli di rifiuti e divacchi a cielo aperto è un insulto a quei luoghi e all'educazione che tutti dovremmo avere mentre li frequentiamo né più né meno di un insulto al Piave e ai luoghi del Grappa non si usano mezzi termini a Pederoba alla fine di un ferragosto che ha visto le sponde del fiume popolate come non mai alla ricerca di refrigerio e relax qualcuno però è andato oltre trasformando alcuni angoli in discariche a cielo aperto di tutta risposta si sono mossi operatori di Contarina e volontari in prima linea ancora una volta nonostante i giorni festivi proloco di Covolo e Caimani del Piave da molto tempo grazie a una efficace sinergia con Contarina siamo impegnati in una stretta vigilanza del territorio che ha portato a molti sanzioni e in questo momento stiamo pensando di implementare questo sistema di sorveglianza in maniera molto più vigorosa proprio nei luoghi teatro di questi sversamenti perché coloro che hanno sbagliato pagheranno la cronaca recente a Pederoba ed intorni racconta di multe esemplari telecamere fototrappole insomma riparato il danno le conseguenze sono ancora tutte da scrivere meglio quindi ribadire un appello il messaggio che vogliamo dare ai turisti è molto chiaro siete benvenuti nel nostro territorio a patto che lo rispettiate diversamente potete rimanere a casa questo l'appello è il monito meglio del vice sindaco di Pederoba parlando ancora di turisti c'è un altro luogo meta di turismo ma questa volta ci spostiamo nel belunese il Nevegale e uno dei punti fermi per il rilancio del Nevegale è il laghetto che si sta realizzando in zona si trova in località La Grava quello che dovrà essere il futuro laghetto del Nevegale il nuovo bacino di accumulo verrà realizzato in prossimità della pista da sci denominata raccordo col dei pez nei pressi del rifugio La Grava alla quota di circa 1200 metri sul livello del mare in un'area di moderata pendenza che è stato oggetto di esbosco dopo gli effetti della tempesta vaia del 2018 Devo dire che ormai il laghetto sta prendendo la sua forma e anche un riscontro positivo per quanto riguarda il cronoprogramma che è in linea con quello che era stato stabilito credo che quest'opera sia quanto mai importante strategica per lo sviluppo più puntuale più preciso di tutta la stagione turistica invernale e per il suo utilizzo stiamo confrontandoci con la provincia per trovare le modalità più idonee l'area facilmente accessibile da piazzare Nevegal dista circa 500 metri da Col dei Pez dove sono presenti le infrastrutture della rete acquedottistica e l'arrivo dell'approvvigionamento idrico sulla stessa area sono presenti anche la stazione di monte della seggiovia Nevegal Col dei Pez e la relativa fornitura elettrica il bacino di accumulo avrà una capacità di invaso pari a circa 29.000 metri cubi l'acqua arriverà da monte attraverso un'opera di presa inserita nel contenitore di bacino di Col dei Pez e scenderà per caduta lo scarico attraverso una tubatura già predisposta confluirà circa 2 km a valle su un torrentello esistente restiamo restiamo in montagna ma ci spostiamo a Tambre per parlare di una disciplina sportiva che non è ancora molto diffusa ma è sicuramente particolare l'ideale anche per un comune delle dimensioni di Tambre non esiste soltanto la neve per lo sci c'è anche l'erba guardate sci d'erba Super G di Coppa del Mondo a ospitare la terza tappa sarà Tambre grazie alla pista di Colindes che ormai si sta affermando come una delle preferite a livello mondiale per questa disciplina è una disciplina molto scenografica e molto bella da vedere ci permette tra l'altro di valorizzare un'area che era dismessa perché era un'ex pista da sci alpino che adesso è una pista federale omologata per lo sci d'erba è chiaramente uno sport di numeri non molto molto stesi però è quello che piace a noi come territorio nel senso che riusciamo a fare un'accoglienza adeguata dare un supporto anche logistico e comunque è valorizzare questa parte della stagione con una disciplina sportiva che sta prendendo piede in gara sabato 24 e domenica 25 agosto una cinquantina di atleti di altissimo livello provenienti da una decina di nazioni tra le quali le più competitive sono Austria Repubblica Ceca e per fortuna Italia a Tambre dove lo sci d'erba era praticato quasi in centro già negli anni 70 il sado pomeriggio si gareggerà anche per l'assegnazione del titolo italiano assoluto qui abbiamo fatto già delle grosse manifestazioni come i mondiali del 2015 abbiamo fatto gare di Coppa del Mondo abbiamo fatto la finale di Coppa del Mondo quindi Tambre è per noi e anche per quello che riguarda il movimento dello sci d'erba è una località importante perché la pista si presta a delle grosse potenzialità sia per quello che riguarda i tratti lunghi del Super G che facciamo quest'anno sia per quello che è la parte tecnica un po' specialistica di quello dello slalom e del gigante Super G che infatti vedrà protagonisti gli atleti in gara in vista poi dell'ultima tappa che in Austria assegnerà la Coppa del Mondo Allora come ogni domenica in chiusura l'appuntamento con l'archivio di Antenna 3 lo straordinario archivio di Antenna 3 con la nostra storia dove eravate il 16 agosto 1987 vi riproponiamo un servizio proprio di quel giorno era il giorno dopo il Ferragosto quindi c'era il bilancio di Ferragosto allora noterete somiglianze ma anche molte differenze con la nostra con l'attualità odierna le lunghe code sulla Treviso Mare una cortina da sold out ma anche soprattutto una Venezia sì con turisti ma con poca pensate economia turistica guardate e anche il Ferragosto 1987 finisce agli archivi e verrà ricordato come un Ferragosto intelligente queste immagini sono state girate nel tardo pomeriggio di ieri ossia le ore di traffico più intenso di questo particolare fine settimana chi arriva e chi parte per alcuni le vacanze sono finite per altri stanno per iniziare secondo un calcolo fatto dalla polizia stradale nel compartimento di Padova che comprende tutto il Veneto ad eccezione del Bellunese tra venerdì e ieri sono circolati complessivamente più di 1 milione e 400 mila autoveicoli la punta massima di ieri è di 530 mila ma si tratta comunque di un numero inferiore rispetto agli scorsi anni secondo gli esperti si tratta di uno dei Ferragosti più sicuri di questo decennio evidentemente le raccomandazioni fatte da più parti le campagne per la sicurezza stradale hanno sortito i loro effetti ma se sulle strade si è registrato un solo incidente grave due morti e tre feriti gravi tra Padova e Vigodarzer sabato sera e molti invece non gravi i soliti tamponamenti il traffico è stato abbastanza scorrevole anche se qualche coda si segnalava ancora questa mattina sempre nella zona che vedete a Ferragosto comunque chi ride e chi piange le principali località turistiche in questo weekend hanno fatto il pienone Cortina gioisce da 5 anni non faceva il tutto esaurito e ieri alberghi e appartamenti privati esponevano la scritta completo si ride anche sull'alto piano di Asiago oltre 100.000 persone sia a Ferragosto che a San Rocco pienone naturalmente sulle spiagge qui vedete Iesolo come si presentava in queste giornate di festa al turismo locale si è aggiunto quello dei paesi dell'est ed anche qui si è raggiunto il centinaio di migliaia di presenze chi piange invece è Venezia tanti turisti ma strutture ricettive del centro storico desolatamente vuote mentre ci si rimbalza le colpe sulla stagione nera sarebbe invece opportuno rimbocarsi le maniche per il futuro le 17 mostre 17 e le celebrazioni per la festa di San Rocco non sono andate disertate così come non lo è stata la città ma il piatto piange e la colpa forse è stata un po' di tutti per finire un'occhiata a Treviso che ha rinnovato la sua secolare tradizione della Sagra dell'Assunta un successo che inorgoglisce i cultori della tradizione trevigiana come gli amici al Ponte Dante che l'avevano organizzata per ripensare il turismo a Venezia sembra appunto un monito sono passati quasi 40 anni da quel 16 agosto 1987 con il nostro straordinario archivio il lavoro di spulciare quest'archivio di Lucio Zanato ci salutiamo grazie per averci seguito arrivederci grazie